Non si riesce bene a capire cos'è il municipio, cos'è il comune, quale sono le diverse responsabilità. Invece noi vogliamo che ci sia questo governo di prossimità e che siamo di fronte a una città di 2.850.000 abitanti in cui ogni municipio è grande quanto è grande la terza, la quarta, cioè una quinta città italiana, cioè 300.000 persone.